allora cala l'iscritto con alessio 51 21 e federico tz ciao allora il cala valus si con specialista esposizione truppe fresche e contagocce c'è fede che prova l'oltre il nulla con specialista ma non so se funzionerà distruggere la bestia e allentare la loro presa su vediamo funziona o non lo tengo ma se funziona oppi ai due secondari se arriva la mamma di fede adesso gli spegne la flay perfetto no no dobbiamo accedere al loro sistema se vogliamo trovare ma voi giocate sempre a destini adesso avete altri giochi no io non ce l'ho oltre ieri attestini per la maggior parte ogni tanto mv3 quando capita ok corrotti sionici faccio un bel po' di danni ma non penso che erano entrati allora io con cecco faccio 19.000 in un shot neanche io di critico 42.000 in testa ma forse funziona quella roba lì dell'oltre il nulla io sto usando di ricognizione dello standard farà lentissimo ah beato te che ce l'hai ah ho fatto standard solo per quello ah non l'ho potuto far ho cominciato sono arrivato al grado 4 poi mi sono stancato cioè non ho manco visto se si sono potuto prendere se si può da spiegarlo ah 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 ok 42.000 in critico adesso prima ne facevo 19.000 non so per se ma forse era aria pubblica wow io passo sì sì siamo tutti caricamento ma quando inizia quella cosa là di san valentino? il 9 oggi che giorno è? 3 ok settimana prossima allora e poi alla fine è Osiride in 2 l'evento è eliminazione però doppietta ok 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 Dovrebbero spawnare, cogli psionici, no, soffio del drago, p. Oh, ho sbagliato. Ok, sono nella merda. Perfetto. No, nonostante il specialista si prendono dei gran colpi. No, sono troppo i jump. No, nonostante. No, nonostante. No, nonostante. No, nonostante. Ok, non ho colpi di cecco. Perfetto. Usa una sintesi. Ok. 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 Ho perso. Ah, è sotto. È qua a sinistra. Dove? È sotto di me. È verso il centro, ma è quasi morto. Morto. Perfetto. Mi ha droppato anche. Ah, questo quello vedi m***o. Che cosa che non cia. a meritocratia ah va andali ah Prendere pesanti, ma oggi ho preso. Adesso ci stanno, potrebbe esserci. Sì, sì. Sì, sì. Ok, il boss. Meglio bollato. C'è la guardia? Sì. Ok. Ancora in due. Ancora in due. Adesso, adesso. Testolina del cazzo. Quando finisci, provo io armi. Oh mio Dio. Ok, non abbiamo più armi. Ah no, ci sta ancora la bolla. Eh, pariscire. Quasi morto. Ecco. Quasi morto. Ecco. Oddio. 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 Oddio che mora. Oddio. E' fatta. Formerò il comandante Zawala che su Marte c'è un problema in meno. va lo star è stato sconfitto un duro colpo per il comando cavall arriveranno nuove flotte e sorgeranno nuovi ma spero nello soffio è il drago momento della verità mi da chi fa dai bene il villano in realtà